Questa presentazione è trasmessa grazie agli amici del Ministero di Amazing Facts. Se siete cristiani, più vi avvicinerete a Cristo, meglio riuscirete a vedere ciò che dovete cambiare nella vostra vita. Ma non scoraggiatevi per questo, continuate ad avvicinarvi al Signore e sarà la sua luce a consumare le cose sbagliate della nostra vita, se noi non ce la facciamo. Il messaggio di stasera ha per titolo abituarsi all'oscurità. Ho pensato di trattare questo argomento anche perché, tornando in aereo dall'Australia, dopo aver servito a cena, trattandosi di un lungo volo, spengono le luci, sperando che tutti si addormentino. Io faccio fatica a dormire in aereo, ma al contempo mi sentirei in colpa se dovessi accendere la piccola luce di cortesia sulla mia poltrona perché temo di disturbare le persone sedute vicino a me. Tuttavia ho notato che, dopo che si sono spente le luci principali, non ci vuole molto ad abituarsi all'oscurità. Abituarsi all'oscurità non è sempre una buona cosa. È bene ricordare che viviamo in un'epoca in cui, nonostante la quantità di luce artificiale abbia raggiunto i massimi livelli, l'oscurità sovrabbonda. Avrete probabilmente già visto questa straordinaria foto satellitare scattata dallo spazio con dei filtri speciali e un ritardo dell'esposizione. Immostra la luce generata dalle maggiori città del mondo. In realtà hanno scattato foto di tutto il pianeta. Quanta energia pensate sia necessaria per illuminare il mondo in questo modo? Non è qualcosa di eccezionale. Questa è l'epoca in cui si produce più luce artificiale di sempre e nonostante tutto viviamo nella peggiore oscurità di sempre. Questo richiama il testo della nostra meditazione, Isaia capitolo 60, versetto 2. Poiché ecco le tenebre ricoprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli. Ebbene, la parola fitta è molto particolare e può avere diversi significati. Noi parliamo di un'agenda fitta per intendere piena di impegni, oppure di una foresta fitta, con molti alberi, o ancora di una nebbia fitta, che si taglia col coltello. Fitta vuol dire anche concentrata. Quindi la Bibbia dice che c'è una fitta oscurità che avvolge i popoli, ma su di te si leva l'Eterno e la sua gloria appare su di te. Tuttavia è proprio nel momento di maggiore oscurità che il popolo di Dio splende di più. In Apocalisse si legge della sposa di Cristo e viene descritto cosa indossa. È rivestita della luce del sole, è in piedi sulla luna e indossa una corona di stelle. Perché secondo voi quello che indossa risalta tanto? Perché è in contrasto con lo sfondo del cielo che si è oscurato. Ed è proprio nelle tenebre che il popolo di Dio deve risplendere. Tuttavia è molto pericoloso trovarsi in un posto di questa terra avvolto nelle tenebre più fitte e abituarsi e adattarsi a questa oscurità. C'è una poesia scritta da Alexander Pope che a un certo punto recita il vizio è un mostro di così spaventoso aspetto che per prenderlo in odio basta vederlo, ma vedendolo troppo spesso, abituati alla sua faccia, prima si tollera, poi se ne prova pietà e infine lo si abbraccia. E questo è ciò che accade col peccato nel tempo. In principio sembra una cosa brutta, poi man mano che ne veniamo esposti ci abituiamo. E ciò per cui una volta provavamo repulsione comincia poi ad affascinarci. Ciò che prima ci sembrava tanto brutto inizia ad attirarci. E a poco a poco ci abituiamo all'oscurità. È come quell'irlandese che emigra negli Stati Uniti per cercare lavoro. Dopo un anno la moglie finalmente lo raggiunge. E gli dice, certo che la gente qui parla in maniera davvero strana. E lui risponde, avresti dovuto sentirli un anno fa. Lui ormai si era abituato. A proposito, ho scoperto che quando sono in Australia ho un accento perché quando vado lì me lo dicono tutti. E io rispondo, non ne ho mai avuto uno finché non sono venuto qui. Beh, immagino che quando andrò in Inghilterra, fra un paio di settimane anche lì avrò un accento. Ad ogni modo, col tempo ci si può abituare praticamente a qualsiasi cosa. Il problema è se ci abituiamo all'oscurità. Ci sono delle scritture che ne parlano. Secondo, Pietro capitolo 2, versetto 17. Parlando dei malvagi dice, costoro sono fonti senza acqua, nuvole sospinte dalla tempesta. Notare le parole che usa Pietro, ai quali è riservata la caligine delle tenebre infernali per sempre. Tutti noi abbiamo due possibili destini, la luce o l'oscurità. La Bibbia si apre con la descrizione di un conflitto fra la luce e le tenebre. Dio disse sì alla luce. L'oscurità ricopriva la superficie della terra. Dio separò la luce dalle tenebre. Ancora oggi nel mondo esiste questo conflitto. La Bibbia ci dice che negli ultimi giorni il mondo sarà avvolto da una profonda oscurità. Siete figli della luce o figli dell'oscurità? Giuda si esprime esattamente con le stesse parole. Giuda 1, versetto 13. Parlando dei perduti dice, onde furiose del mare che vomitano la schiuma delle loro brutture, stelle erranti a cui ha riservata la caligine delle tenebre infernali per sempre. Sapete, gli angeli che non hanno osservato la propria eredità si sono meritati l'oscurità eterna. Queste sono le parole più intense che la Bibbia utilizza per descrivere questa fitta oscurità. La caligine delle tenebre infernali per sempre. Come ci si spiega coloro che sono stati con il Signore e poi sono entrati nelle tenebre del mondo? Non vedono il contrasto? È un peccato che i loro occhi si siano abituati. Secondo Corinzi 4, versetto 3, dice, Ma se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo. Perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre, e qui fa riferimento a Genesi, è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori. Queste sono le stesse parole dell'espressione sia la luce in Genesi che portano la luce nella nostra vita, nell'oscurità dei nostri cuori, per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. Sapete, nello spazio ci sono i cosiddetti buchi neri che sono il risultato del collasso di un sole o di qualche altra grande stella. Hanno un campo magnetico e una forza gravitazionale tali da risucchiare qualsiasi corpo presente nel raggio di centinaia di milioni di chilometri. A dire il vero, non ho idea di quale sia il raggio d'azione, ma il punto è che qualsiasi cosa si trovi nelle vicinanze viene risucchiata. Persino la luce che viaggia a una velocità di 300.000 chilometri al secondo. I buchi neri sono tanto potenti che risucchiano persino la luce. L'oscurità del diavolo è tanto intensa da trangugiare qualsiasi forma di luce intorno a lui. Ha commesso l'unico peccato imperdonabile. E sapete, tante persone che hanno contristato lo Spirito Santo sono diventate come i buchi neri. Uno cerca di avvicinarle, ma la cosa non gli interessa per niente. La Bibbia parla di quella profonda, eterna, fitta oscurità come di un buco nero. Qualsiasi cosa ne viene inghiottita per non riemergere mai più. È comprensibile che un bambino abbia paura del buio, ma è triste constatare che tanti adulti hanno paura della luce. Un giorno ho sentito la storia di un bambino di 4 anni che stava cercando di versarsi della Coca-Cola da solo, ma ne ha fatta cadere un po' sul pavimento e in cucina. Volendo dare una mano alla mamma per pulire, andò a prendere il mocio. Però era buio. Sapeva che il mocio era fuori dalla porta sul retro, perché era lì che lo tenevano. Però era buio. Sua madre vide quello che voleva fare e notò anche che arrivato alla porta, il bambino esitava perché il retro della casa non era illuminato e lui aveva paura. La mamma gli disse, non devi avere paura perché Gesù è ovunque, persino nel buio. Il bambino allora fissò lo sguardo fuori dalla finestra e poi rispose, Gesù puoi passarmi il mocio? È normale quindi che un bambino abbia paura del buio, ma ciò che è veramente triste è che alcuni adulti hanno paura della luce. La Bibbia descrive questa paura con le parole di Gesù in Giovanni 3, versetto 19. Ora il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce. Perché? Perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce. Perché hanno ucciso Gesù? Perché ha portato tenebre o luce? La sua luce ha messo in evidenza le loro tenebre. Chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Se siete cristiani, più vi avvicinerete a Cristo, meglio riuscirete a vedere ciò che dovete cambiare nella vostra vita. Ma non scoraggiatevi per questo. Continuate ad avvicinarvi al Signore e sarà la sua luce a consumare le cose sbagliate della nostra vita. Se noi non ce la facciamo. La luce pulisce e sterilizza. La luce ci purifica. La Bibbia ci dice che Dio è luce. Primo Giovanni 1, versetti 5 e 6. Or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non vi è tenebra alcuna. Se diciamo di avere comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Qualcuno ha detto che il carattere è quello che riveli di essere quando sei al buio. Il carattere è quello che riveli di essere quando pensi che nessuno ti stia guardando. Matteo 4,16. Parlando dei tempi di Gesù dice, il popolo che giaceva nelle tenebre ha visto una grande luce e su coloro che giacevano nella regione e nell'ombra della morte si è elevata la luce. Salmo 89, versetto 15. Beato il popolo che conosce il grido di giubilo, o eterno, perché esso camminerà alla luce del tuo volto. Quindi Dio è luce e se abbiamo le tenebre nel nostro cuore e nella nostra vita, allora abbiamo bisogno di invitare quella luce, di far entrare quella luce nella nostra esistenza. Noi stessi siamo chiamati a essere la luce del mondo. Matteo 5,14. La luce del mondo non è solo Gesù. Egli disse, voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Saprete certo cos'è un blackout. È quando si verifica un'interruzione di corrente e un intero gruppo di persone o addirittura un'intera nazione si ritrova nel buio più totale. A volte il blackout, questa interruzione di corrente, si verifica nelle chiese, perché il popolo di Dio e i suoi figli, la sua chiesa, non riesce a riflettere la luce di Dio e a farla risplendere nella propria vita. La luce non è visibile finché non colpisce qualcosa. È chiaro questo punto? Gesù manda la propria luce nel mondo, ma il mondo non può vederla se essa non viene riflessa da qualcosa. E dovrebbe essere riflessa dalla mia vita e dalla vostra. Io e voi dovremmo riflettere la sua luce, proprio come la luna riflette la luce del sole. La luna non è visibile, a meno che non venga colpita dalla luce del sole. Luca capitolo 1, versetto 79, parlando di Cristo e della sua missione, dice per illuminare quelli che giacevano nelle tenebre e nell'ombra della morte, per guidare i nostri passi nella via della pace. Nella parola di Dio, quindi, ci viene detto che dobbiamo camminare nella luce. Non abituatevi alle tenebre. Camminate nella luce. Sembra come se le cose che un tempo ci facevano meraviglie, ci scioccavano, ora ci divertono e ci fanno star bene. Giovanni 12, versetti 35 e 36. La luce è con voi ancora per un po'. Camminate mentre avete la luce affinché non vi sorprendano le tenebre. La luce di una persona si può spegnere? Se Dio manda la sua luce nella vostra vita, essa non rimane statica. Quella luce o diventerà più intensa o diminuirà? Quella luce dovrete alimentarla in modo che diventi sempre più brillante fino al sorgere del giorno e affinché la stella del mattino risplenda nel vostro cuore. La Bibbia descrive la luce di Dio come qualcosa che diventa sempre più splendente o che diminuisce. Siamo tutti paragonabili a variatori di luce in azione. Ma da quale parte stiamo girando? La luce di Dio nella vostra vita sta diventando sempre più intensa? stiamo studiando e camminando nella luce? Se Dio ci dà la luce e noi seguiamo ciò che ci viene rivelato, Egli vi darà ancora più luce. Perché smette di darci la sua luce se smettiamo di camminare nella luce? Perché siamo responsabili della luce che Dio ci dà, in base alla quale saremo anche giudicati. Dio è troppo clemente per darci più luce di quella in cui potremmo camminare perché poi dovremmo risponderne. È chiaro questo punto? Se Dio vi concede una luce maggiore e voi non camminate nella luce, Gesù dice, se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, perciò il vostro peccato rimane. In Pietro leggiamo che la luce di Dio progredisce. Aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza. È come se fossimo sulla scala di Giacobbe. Alcuni di noi vorrebbero saltare qualche piolo. Se Dio vi mostra qualcosa della vostra vita che dovete affrontare, ma voi state prendendo tempo, non riuscite a fare progressi e vi domandate come mai non arrivate da nessuna parte, allora decidete di camminare nella luce. Non potete rimanere in questo circuito d'attesa troppo a lungo. Prima o poi finirete il carburante e rischierete di precipitare in volo. È molto pericoloso cercare di mantenere una relazione con Gesù che non cresce. Quando pensate di essere dei buoni cristiani, in realtà state scivolando all'indietro. State perdendo quota senza nemmeno forse accorgervene. Dovete procedere in avanti, amici. Camminate nella luce quando siete nella luce. Giove 29, 3. Quando la sua lampada brillava sopra il mio capo e alla sua luce, camminavo in mezzo alle tenebre. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Primo Giovanni 1, 7. Ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri. E il sangue di Gesù Cristo, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Uh, è chiaro questo punto. Quanti di voi vorrebbero essere purificati dal peccato? C'è una condizione per poter essere purificati. Qual è questa condizione? Voltare le spalle alle tenebre e camminare in avanti verso la luce e continuare a camminare nella progressiva luce che Dio ci dà. Se non continuassimo a vivere e a camminare nella luce, molto presto ci trasformeremo in una denominazione, diventeremo un'organizzazione, un social club e torneremo a far parte del mondo. Abbiamo ancora il nostro nome e il nostro edificio, ma quello che accade alle denominazioni accade anche agli individui. Quando si traccia la storia delle sette chiese di Apocalisse, a partire da quella di Efeso, che procede di vittoria in vittoria e si guardano gli alti e i bassi di queste sette chiese, vediamo che dopo l'ardore del primo amore, il sentimento comincia a svanire e attraversate determinate fasi quando si arriva all'Odicea la chiesa è tiepida. I membri di questa chiesa non sanno di essere poveri e ciechi e nudi e miserabili. La situazione si evolve gradualmente fino a diventare molto presto un'istituzione. L'Odicea descrive un'istituzione tiepida. Pensano di essere cresciuti, di essersi arricchiti, di avere molte proprietà, tante branche, un sistema educativo e ospedaliero. La gente pensa di essere cresciuta e di essersi arricchita una volta per tutte, ma nella loro vita non stanno camminando nella luce. Ma in realtà, senza saperlo, si trovano nelle tenebre. Alla fine sono come ciechi che guidano altri ciechi. Il periodo di maggiore oscurità si verifica prima della liberazione. In Matteo 25, versetto 6, la Bibbia dice «Sulla mezzanotte si levò un grido, ecco arriva lo sposo, uscitegli incontro». Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Quando lo sposo arrivò, dovettero fare qualcosa per far dileguare le tenebre e aiutare anche gli altri a trovare la strada per arrivare al luogo della cerimonia. È proprio nel periodo più buio della storia del mondo che la chiesa ha maggior bisogno che la luce risplenda. Appena prima che i figli di Israele uscissero dall'Egitto, si abbatté sul paese la piaga dell'oscurità. L'oscurità si abbatté sulla sede reale dell'Egitto. E una delle piaghe cui assisteremo appena prima del ritorno di Gesù sarà quale? L'oscurità sul trono della bestia. Voglio leggervi questo passo da Esodo 10, versetto 21. «Allora l'Eterno disse a Musè, stendi la tua mano verso il cielo, perché vi siano le tenebre nel paese d'Egitto, delle tenebre che si possano palpare.» Questa è la fitta oscurità. «E Musè stese la sua mano verso il cielo e vi furono dense tenebre in tutto il paese d'Egitto. Per tre giorni, uno non vedeva l'altro e nessuno si mosse da dove si trovava per tre giorni, ma per tutti i figli di Israele c'era luce nelle loro dimore.» Dio vuole forse che rimaniamo nelle tenebre? La Bibbia non dice che noi non siamo figli della notte? Noi siamo figli del giorno. Il giorno del Signore non deve sorprenderci. Non camminiamo nelle tenebre come fanno altri. Primo Tessalonicesi 5, versetti 4-5. «Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. Voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. La luce del Signore dovrebbe essere manifesta nella nostra vita.» Ci sono alcuni altri versetti che vorrei condividere con voi. «Quando Gesù morì, il mondo rifiutò il proprio Creatore e calò un'oscurità sovrannaturale.» Matteo 27, versetto 45. «Da allora, sesta fino all'ora nona, si fecero tenebre su tutto il paese. Al tempo di Mosè, in Egitto, la piaga delle tenebre durò per tre giorni. Alla morte di Gesù, l'oscurità, un'oscurità sovrannaturale, durò tre ore. Gesù gridò con gran voce, dicendo, «Eli, Eli, la massa bakhtani, cioè Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Nel momento in cui sembra che il mondo sia stato abbandonato da Dio, caleranno delle fitte tenebre. Possiamo essere circondati dalle tenebre più profonde proprio nell'epoca in cui si è raggiunto il massimo picco di luce artificiale? È possibile che la luce artificiale che siamo in grado di produrre ci stia in realtà ingannando? Pensiamo che possa essere in grado di sostituire la vera luce. Sta per arrivare il giorno in cui non ci sarà più oscurità.» Romani 13, 12. «La notte è avanzata e il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre.» Vi state abituando alla luce? Vi state liberando delle opere delle tenebre? E indossiamo le armi, non dice le armi di Dio, dice le armi della luce. «Le vostre vesti rifulgono?» Qui si parla di un buon detersivo. Il sangue di Gesù farà rifulgere le vostre vesti. Meglio di uno smacchiatore. Efesini 5, 8. «Un tempo, infatti, eravate tenebre, ma ora siate luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce.» Come a dire, ora brilliamo un pochino, ma dobbiamo brillare ancora di più. Efesini 5, 11. «E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele.» Non abituiamoci al buio. Dobbiamo chiedere a Dio di aiutarci a riconoscere le tenebre di questo mondo e a ricusarle, perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Secondo Corinzi 4, versetto 6, «Perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori, e lo abbiamo già detto prima, per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio, che rifulge sul volto di Gesù Cristo.» Come facciamo, quindi, a far brillare questa luce in un mondo di tenebre? Beh, ci sono diversi modi. Uno di questi è molto semplice. La parola di Dio è luce. Ma la luce di Dio non è visibile fino a quando non si rifrange su qualcosa. Quando leggete la parola di Dio e le consentite di trasformare la vostra vita, cercando di vivere in accordo con essa e di camminare nella luce, la gente che vi circonda vedrà quella luce e vi seguirà. E ora una buona notizia, amici. Andremo in un posto dove non ci saranno più le tenebre. Mi piace questo versetto, Apocalisse 21, 23. «E la città, in quel regno, non ha bisogno del sole né della luna, che risplendano in lei, perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello è il suo luminare». Isaia 30, versetto 26. «Parlando del cielo, afferma la luce della luna sarà come la luce del sole e la luce del sole sarà sette volte più forte». Non fatelo ora, in questo momento, ma immaginatevi di uscire da qui e di guardare il sole. Vi brucierebbe gli occhi. Immaginate cosa sarebbe riuscire a guardare una luna che brilla ancora di più di quanto faccia il sole oggi. Questo è ciò che dice la Bibbia. Tutto il mondo è stato oscurato dal peccato. Il sole splenderà sette volte di più di quanto faccia oggi. Ho una mia teoria, secondo la quale penso che in quel regno non soffriremo di eccessiva fotosensibilità, per cui riusciremo a guardare dritto il sole senza che ci dia fastidio agli occhi. Perché Dio splenderà ancora più del sole. La città non sarà illuminata dalla luce naturale del sole, ma da Dio in persona. Sono stanco di vivere nelle tenebre, in questo mondo di tenebre dove l'umanità è avvolta dalla più fitta oscurità. Ma se camminiamo nella luce, come Lui è nella luce, il suo sangue ci purificherà dai nostri peccati. Cosa ci ordina di fare? Lo troviamo nelle scritture dove c'è scritto alzati e risplendi. Dio ci chiama ad alzarci e a risplendere, perché la tua luce è giunta e la gloria dell'Eterno si è elevata su di te. Non so voi, amici, ma con l'aiuto della grazia divina io vorrei essere una luce per questo mondo avvolto nelle tenebre. A mezzanotte Gesù tornerà e quello è il momento in cui noi dovremo alimentare le nostre lampade e mantenerle accese. In modo che la gente veda la luce di Dio nella nostra vita. Il messaggio di oggi sulla luce e sulle tenebre è molto semplice, ma anche molto vicino alla realtà. Non è per niente astratto. Noi viviamo effettivamente in un mondo di tenebre. Quanti di voi vogliono risplendere e riflettere la luce di Dio?